Musica Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale oristanese. A Città Giardino giungerà l'asfalto al via ai lavori proprio in questi giorni. Sentiamo. Con ordinanza numero 249 del 5 luglio scorso che una squadra di operai ha provveduto ad affiggere nei cartelli di divieto di sosta sino al prossimo 31 dicembre lungo le strade interne del quartiere Città Giardino di via Mattei con quotidiano divieto dalle 8 alle 17. I residenti del quartiere hanno capito che da parte del comune veniva finalmente resa giustizia con l'avvio della sistemazione funzionale degli spazi stradali e degli attraversamenti pedonali attraverso il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. Lo avevano assicurato alcuni amministratori comunali che spesso frequentano questa zona e tra questi l'assessore Francesco Pinna. Le aree interessate sono le vie Segne e Canonico Mastino dove sono edificati sei complessi abitativi più il palazzo dove assede l'INAIL ma anche private residenze. A Città Giardino risiedono complessivamente non meno di 500 persone mentre nei disimpegni che formano il piano rialzato sono presenti diversi uffici, attività commerciali, studi professionali, medici e veterinari, attività artigiane e altro. Strade e marciapiedi sono stati ceduti a suo tempo al comune di Oristano divenendo quindi pubblici. L'usura del tempo, oltre 40 anni, ne ha fatto dei percorsi da guerra ma nonostante questo gli ampi e funzionali spazi ospitano ogni giorno centinaio di vetture in sosta considerando che quasi tutti i titolari degli appartamenti lo sono anche dei posti macchina privati nei garage ricavati negli spazi sottostanti agli edifici dove abitano. Il comune ha anche posto mano all'assetto di un tratto della via Mattei, quella conclusiva che da via Carboni, dove assede il palazzo della provincia, immette in via Rockefeller e quindi in viale Diaz, un imbutto stretto e pericoloso, parte terminale del traffico diretto al centro di Oristano e proveniente da viale Repubblica e quindi dal ponte di Bravao, Torre Grande, Cabras e le zone marine. Il traffico è rimasto nei due sensi di marcia, ma il parcheggio è limitato ad una sola corsia, mentre un'altra è riservata alla bicicletta. Una corsia che poi prosegue lungo viale Repubblica. Resta il problema del transito in velocità che in assenza di un dissuasore andrebbe segnalato anche per terra, evitando alla moderazione gli automobilisti che accelerano dopo la curva del market Frongia e nel pendio posto di fronte al Valisa Caffè. Il Comune di Oristano ha pubblicato una nuova asta per la cessione della propria quota della società marine oristanesi che gestisce il porticciolo turistico di Torre Grande. Sentiamo. Il Comune di Oristano ci riprova e pubblica nuovamente un'asta per la cessione della propria quota di partecipazione, pari all'86%, nel capitale sociale della società marine oristanesi SRL, che gestisce il porticciolo turistico di Torre Grande. La procedura di vendita si svolge con un importo a base d'asta di 167.700 euro, nettamente inferiore rispetto a quello proposto per l'asta pubblicata lo scorso maggio, che prevedeva un importo minimo di 300.000 euro. Ma stavolta l'aggiudicatario non porterà a casa l'intero pacchetto, considerato che gli altri soci non hanno disposto l'alienazione della propria quota di partecipazione al capitale sociale. Ciò comporta che prima dell'aggiudicazione si procederà ad esperire la fase relativa all'esercizio del diritto di prelazione nei confronti dei soci che detengono la restante parte del capitale sociale, pari complessivamente al 14%. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 31 luglio. L'apertura delle buste si terrà giovedì 1 agosto alle 12, presso il Comune di Oristano. L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto in possesso dei requisiti richiesti che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta. Venerdì 19 luglio alle ore 9, nuovo Consiglio Comunale a Oristano, convocato per la discussione urgente della mozione presentata dai consiglieri di minoranza Riccio, Masia, Cadau, Federico, Obinu e Sanna per l'attuazione di attività di bonifica dell'amianto nella città di Oristano e nelle sue frazioni. Il Comune di Oristano ha ricordato questa mattina Mondino Piloni e Vincenzo Curtale dedicando loro due targhe. Vediamo. C'è scritto Piscina Comunale Mondino Piloni 1931-1951 con gesto supremo, perse la vita tra i flutti, salvò la vita da altri, sulla targa scoperta stamattina all'ingresso della piscina. Così la città ha ricordato il giovane eroe oristanese che nel 19 giugno 1951, mentre si preparava a sostenere gli esami di maturità a San Giovanni del Sinis, perse la vita tra le onde del mare dopo aver salvato due bagnanti in difficoltà. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Oristano Andrea Luzzo, gli assessori Pupa Tarantini, Francesco Pinna, i familiari e i parenti. Presenti anche i due ex calciatori della Tarros. Un ragazzo che con un gesto di generosità per salvare altre vite ha perso la sua, ha dichiarato Luzzo. Sicuramente un eroe, un ragazzo che ha sacrificato la sua vita per gli altri, quindi massimo esempio di dedizione, di altruismo, doveroso da parte del Comune di fare qualcosa. Sicuramente è una bellissima cosa dedicare la piscina comunale a questo eroe. Tutto è stato possibile anche grazie all'iniziativa dei due consiglieri comunali, Marco Piraz e Maria Angela Massenti, che insieme a tutto il Consiglio Comunale poi hanno approvato una delibera che ha portato a questo bel risultato di oggi. Mondino Piloni deve essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, ha dichiarato Pupa Tarantini. L'esempio di questo ragazzo che nel 1951 morì per salvare la vita altrui appartiene certo al ricordo della sua famiglia, ma anche al ricordo di tutti gli oristanesi. Ed è questa la motivazione per cui il Comune di Oristano ha deciso di intitolare la piscina, frequentata soprattutto dai giovani. Ma è intenzione dell'amministrazione riuscire a portare l'esempio di questo ragazzo, l'esempio di un ragazzo impegnato nello sport, ma impegnato anche nella vita sociale, a salvare il prossimo, ad esempio di queste generazioni che talvolta non trovano il senso della vita. Sempre stamattina a Torre Grande, nei pressi della Torre Costiera, alla presenza delle autorità civili, dei familiari e parenti più stretti, è stata scoperta la targa dedicata a Vincenzo Curtale, che il 15 agosto del 2015, dopo aver tratto in salvo due persone, perse la vita nel mare di San Giovanni. Vincenzo Curtale nel 2015, un altro esempio straordinario di altruismo, chi dà la vita per gli altri, è sempre grazie alla sensibilizzazione da parte di consiglieri comunali, Salvatore Ledda e Daniela Nurra, insieme poi a tutto il Consiglio Comunale, che propose una delibera e oggi portiamo a compimento questo atto fortemente voluto dalla città, ma anche veramente dovuto ed è un ringraziamento a delle persone che sono state il massimo esempio. Ieri mio figlioletto a cena mi chiedeva chi erano queste due persone, vuol dire che il messaggio è arrivato. Il mercato del lavoro in Sardegna, focus sul territorio di competenza del Centro per l'impiego di Terralba, è il tema dell'incontro organizzato dall'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, che si terrà domani, giovedì 18 luglio alle ore 19, nel Teatro Comunale in Piazza Libertà Terralba. In programma, la relazione sull'andamento del mercato del lavoro nel territorio del CPI di Terralba a cura dell'osservatorio del mercato del lavoro dell'Aspal. Il Tar ha affidato al Comune di Cabras la gestione delle opere di urbanizzazione di Fontana Meiga. Sentiamo. A Cabras fa discutere la recente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, il Tar, che a seguito di alcuni ricorsi che sono stati accolti, ha stabilito di affidare al Comune gli oneri e la gestione delle opere di urbanizzazione di Fontana Meiga, il villaggio di seconde case al mare, costruito tra San Giovanni di Sines e la tenuta di Torreseo. In attesa di conoscere il dispositivo della sentenza, vi è da ricordare che Cabras ha avuto sempre problemi con i pochi insediamenti costieni nati lungo la costa, che in parte ne è ancora priva dopo il fallimento dell'iniziativa avviata su Bardoni da tre imprenditori turistici locali. Si pensi ad esempio che anche per quanto riguarda la borgata di San Giovanni, dove esiste un apposito comitato di residenti, le opere di urbanizzazione sono in carico ad un progetto finanziato dalla Regione Sarda. Questo riguarda il complesso di residenze private con vista sul mare, in parte realizzato a ridosso o sopra importanti testimonianze archeologiche. In rapporto al costruito risultano pochi i cittadini di Cabras, titolari di residenze in quanto proprio a San Giovanni, la fila delle case a ridosso della chiesa bizantina di San Giovanni appartengono storicamente ai nurachesi, anche se ora all'interno della borgata le presenze si sono diversificate. Al controllo è sfuggita anche una parte di capo San Marco, che durante la discutibile amministrazione di un commissario prefettizio autorizzò la recinzione della parte dell'area prospicente il mare morto e autorizzò la edificazione di cinque ville esclusive. Restavano le capanne in falasco, demolite o bruciate nel tempo, mentre non ha avuto seguito e fortuna il progetto di Guido Dorascensi per realizzare un villaggio di 300 capanne a mare morto. A Bosa la prima seduta del nuovo consiglio comunale. Andiamo a vedere. Dopo cinque anni Pietranco Casula ritorna sulla poltrona del sindaco di Bosa. A capo di una civica si ritroverà di fronte due compagini che hanno già annunciato più la volontà di collaborare che di fare opposizione. La prima guidata da Rosalia H e la seconda da Alessandro Naitana. Nella seduta iniziale, dopo le formalità di Vitto ed il giuramento, Pietranco Casula ha annunciato le linee programmatiche della sua amministrazione. I problemi principali di fronte ai quali si troverà sono in primis il lavoro e indica perché non è solo Bosano ma che forse la cittadina alla planargia ha più possibilità di risolvere. Il sindaco ha parlato di industria sostenibile e di zona franca integrale. Certamente però il turismo è il punto di forza. Casula ha annunciato un piano per il turismo più che un susseguirsi di feste e una attenzione maggiore alla viabilità in accordo anche con la città di Alghero. Sarà istituita ad hoc una commissione turismo che vedrà la presenza anche degli operatori. Uno dei primi provvedimenti sarà l'istituzione dell'isola pedonale nel corso. La piazza Anna Siria diventerà un parcheggio a pagamento per pullman e camper. Bosa ha bisogno anche, secondo Casulo, di una toilette generale. Per questo verranno ridiscussi gli accordi con la società che gestisce la netezza urbana e si pensa alle mini-isole ecologiche. Verrà data anche la possibilità di gestire angoli verdi da parte dei cittadini anche con il baratto amministrativo che servirà inoltre per estinguere debiti e sanzioni da parte dell'amministrazione. Contro i maleducati è previsto un servizio di videosorveglianza. Altro obiettivo è una città a misura di bambini e disabili con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Altro grosso problema è la messa in sicurezza della città, soprattutto con la canalizzazione delle acque, con la contemporanea qualità degli interventi, che però non dovranno scontrarsi con la perenne cultura del no, alla quale l'amministrazione si opporrà con tutte le forze. La valorizzazione della città passa per la riqualificazione del suo particolare e conosciutissimo centro storico, Sagosta, per cui si prevede un piano particolarizzato insieme ad un piano pericolore. Altrettanto occorre un piano, che si discute proprio in questi giorni, per la valorizzazione del litorale. Ultima, ma solo in elenco, la questione dell'ospedale. La giunta Casula si opporrà fermamente alla riduzione dei posti letto. Attenzione infine anche all'artigianato, caratteristico e alle culture tipiche della malvasia e dell'olio. La seduta iniziale è stata anche quella dove si è presentata la nuova giunta. Vice sindaco con delega a turismo e cultura Alessandro Campos. Lavori pubblici, agricoltura e pesca Carmen Mariani. Verde pubblico ed ecolo urbano Piera Addis. Famiglia, servizi sociali e bilancio Maura Marongiu. Pubblica istituzione, politica giovanili e sport Paola Pintus. Negli uffici dell'Inps di Oristano sette nuove assunzioni per una più celere gestione delle pratiche. Sentiamo. È terminato il periodo delle lunghe attese per le pratiche Inps negli uffici oristanesi. Già all'inizio del mese il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio aveva annunciato un considerevole aumento dell'organico nei vari uffici italiani ed effettivamente sono stati assunti sette nuovi impiegati nella sede di Oristano. La mole di lavoro, già superiore alle possibilità in relazione al numero degli addetti, molti dei quali sono andati in pensione e non sono stati sostituiti, in questo periodo è aumentata a causa delle pratiche della quota 100 e del reddito di cittadinanza. La situazione stava ormai divenendo piuttosto critica, ma si può ora tirare un sospiro di sollievo, lo ha affermato il presidente del Comitato provinciale dell'Inps, Andrea Sanna, non solo per la sede di Oristano, ma anche per quella zonale di Ghilarza, che sembrava dovesse chiudere per una nuova organizzazione nazionale. Ancora non è stata attuata la delibera che attesta la volontà di chiusura degli uffici in cui operano sei dipendenti, pertanto, salvo cambi di rotta dell'ultimo minuto, pare che il pericolo sia scampato. E torniamo a Cabras, dove l'amministrazione comunale supporta la proposta promossa dal CFU Italia attraverso una petizione popolare per il riconoscimento della fibromialgia e l'inserimento della stessa nei livelli essenziali di assistenza. Tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali che desiderano sostenere l'iniziativa possono recarsi presso l'ufficio dell'assessore alle politiche sociali Alessandra Spanu, da lunedì al venerdì, dalle ore 11 fino alle ore 13, muniti di documento di identità. La raccolta delle firme sarà possibile fino al 27 settembre 2019. Nessun taglio per gli abbonamenti al trasporto pubblico per gli studenti sardi. L'annuncio arriva dall'assessore regionale leghista dei trasporti. Sentiamo. I rimborsi delle spese sostenute dai ragazzi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico saranno garantiti. Dichiarazione confermata anche dall'assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde, che ha smentito la notizia sul taglio degli sconti per i trasporti pubblici e fa sapere di aver già trasferito le risorse agli enti amministrativi per poter procedere ai compensi alle famiglie. La precedente giunta regionale, fanno sapere dall'assessorato, con la delibera del gennaio 2019, su proposta dall'assessore Careddu, aveva ritenuto necessario monitorare attentamente l'andamento della spesa, in quanto la misura introdotta avrebbe potuto trovare attuazione solo fino a concorrenza delle risorse stanziate in bilancio, prevedendo l'introduzione di correttivi futuri, avendo la piena consapevolezza di aver promesso agli studenti sardi un bonus che non sarebbe stato possibile mantenere alle stesse condizioni con le risorse stanziate. Ancora una volta, concludono dall'assessorato, ci troviamo davanti a un problema ereditato da chi ha precedentemente amministrato la nostra regione e che ora fa finta di non conoscere. Da parte mia e del presidente Solinas c'è il massimo impegno per promuovere tutte le azioni utili alla fruizione del mezzo pubblico da parte degli studenti sardi, per contrastare la dispressione scolastica e per garantire un complessivo miglioramento della qualità della vita. Il comune di Nurachi informa che venerdì 26 luglio e mercoledì 28 agosto, dalle ore 3, la ditta Sardegna Disinfestazioni eseguirà il servizio di disinfestazione contro gli insetti alati. Le raccomandazioni sono quelle di non sostare all'aperto, chiudere porte e finestre, non tenere panni esposti e lasciare all'interno dell'abitazione gli animali da compagnia. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento verrà rinviato. Via libera ai lavori di efficientamento del depuratore di sedilo. Sentiamo. Il paese di sedilo si doterà di un moderno depuratore. Il direttore generale di Abanoa, Sandro Murtas, ha infatti firmato il contratto con l'impresa giudicatrice che realizzerà le opere fondamentali per ammodernarne l'impianto grazie all'investimento di 400 mila euro. I fondi stanziati provengono dai finanziamenti che Abanoa ha ottenuto come premialità per gli scopi conseguiti nel servizio idrico integrato. Saranno usati per trasformare il nuovo impianto con interventi strutturali e l'installazione di nuove apparecchiature elettromeccaniche. Il gestore unico del servizio idrico ha proceduto a tappe forzate per accelerare i tempi di realizzazione di questo progetto fondamentale che migliorerà il sistema di depurazione a servizio del paese. Alla fine di febbraio è stato approvato il piano definitivo ed esecutivo messo a base della gara bandita già a fine marzo, mediante procedura negoziata telematica che si basa sulla piattaforma istituzionale Portale a Palti. A fine maggio è stata stabilita la giudicazione e ora, dopo le verifiche dei requisiti dell'impresa, è stato firmato il contratto. Giovedì 18 luglio a Fordongianus per la ventunesima edizione del Festival Dromos, alle ore 22 sul palco allestito nel suggestivo scenario delle antiche terme romane, riflettori puntati sugli snarchi pappi di scena nel paese del Barigadu, a una ventina di chilometri da Oristano, per l'unica tappa sarda del tour all'insegna del nuovo disco Immigrants, pubblicato lo scorso 15 marzo. È sabato 20 luglio, alle ore 21, nell'area spettacoli del museo Peppetto Pao di Nuracchi, per il ciclo Musica nelle sere d'estate, appuntamento con la musica celtica delle Green Clothes, chiamate le cinque fate della musica celtica, con i loro costumi fantasy e il volto celato da misteriose maschere, propongono uno spettacolo di grande effetto scenico. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo mail, radazione, chiocela supertvoristano.it o sulla nostra pagina Facebook. Grazie, buon proseguimento. Grazie a tutti.